Doveva parlare a Napoli e non ha parlato. Sì, per un gazebo per raccogliere firme contro la legge Fornero, per fare un referendum per cancellare la legge Fornero. E c'erano alcuni personaggi con la maglietta del Napoli, aveva tirato in ballo Jenny Acarogna, alcuni cori da stadio, lavati col fuoco, torna a Milano. Non mi era successo a Salerno un'ora prima, né a Battipaglia due ore prima, né mi è successo a Catania o alla Mezzia Terme. Nientemente per qualcuno il tifo va oltre. Tutti detto questo io a Napoli ci torno. Ecco, questo volevo capire. No, assicurati, su Facebook sono stato tempestato da almeno 200 inviti da napoletani che mi dicono Napoli non è solo questo, anzi, non è solo lo stadio, neanche lo stadio, perché questo è casino. Deciderà lo stadio, quindi ho una serie di architetti, avvocati, negozianti, commercianti che mi hanno detto torna, tornerò magari in un quartiere più tranquillo.